Dall'inizio del mese di agosto, l'introduzione del Green Pass obbligatorio interessa anche le iniziative, le sagre e gli eventi, compresi quelli che si svolgono all'aperto, la cui organizzazione passa per le mani delle proloco. Nei giorni successivi all'emanazione del decreto, diverse sono state le richieste a livello nazionale per avere chiarimenti e correzioni, in particolare sul tema dei controlli. Dato che le indicazioni fornite in prima battuta attribuivano ai volontari delle associazioni locali il compito di verificare il possesso della certificazione verde. Sulla gestione organizzativa degli eventi non nasconde le difficoltà il presidente provinciale dell'Unione Proloco d'Italia, Damiano Bartoccetti, il quale ha sottolineato il prezioso lavoro portato avanti dai volontari per rispettare le normative e i protocolli di sicurezza in un momento di crisi per diverse proloco del territorio. È chiaro che ci siamo subito modulati e questo devo dire grazie allo straordinario rapporto di interforze che c'è tra la Questura e la Prefettura. Abbiamo fatto un protocollo d'intesa unico per tutte le proloco della provincia di Piesolurbino, dove tra l'altro grazie all'interessamento della rete nazionale delle proloco il ministro Lamorgese ha modificato alcuni parametri, quindi non è più obbligatorio che durante un evento si controlli, quindi noi dobbiamo apporre dei cartelli dove è obbligatorio avere il Green Pass. Già questo ci alleggerisce al fatto che comunque all'aperto era impossibile poter controllare e far fare da carabinieri ai volontari delle proloco. Abbiamo dovuto chiaramente ridurre gli ingressi, come dovremmo ridurre gli ingressi da qui andando avanti. Lo facciamo sempre di concerto con le forze dell'ordine, a volte alcuni eventi, bisogna dirlo, sono anche saltati a causa di queste restrizioni, perché comunque è giusto, vorrei anche precisare una cosa, noi non siamo contrari al Green Pass e non siamo contrari al vaccino, ci teniamo a precisarlo, però la difficoltà è veramente tanta e le proloco molte sono in difficoltà economica. Abbiamo tantissimi eventi che riguardano il nostro territorio, tra l'altro il 25, anche se siamo in piena estate, il 25 di agosto avremo una riunione a Fossombrone per il Natale che non ti aspetti della provincia di Pesurbino. Vogliamo ripartire? Vogliamo ripartire con i mercatini di Natale in presenza che danno ossigeno all'artigianato artistico e ai prodotti tipici locali. Noi abbiamo circa in tutta la provincia 68 proloco con una dislocazione circa tra iscritti e non iscritti, perché non tutti sono iscritti, di circa 9.000 volontari. Vorrei ricordarlo, il Presidente della Proloco non percepisce stipendio, è volontario e dopo essere volontario si assume anche il rischio di organizzare quell'evento, quindi su questo bisogna fare una riflessione molto importante e che soprattutto la politica intervenga in maniera decisa con dei contributi fondamentali, importanti su tutto il territorio regionale.